Il provvedimento che oggi è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri è un provvedimento che affronta un tema, come diceva il Presidente Annoso, non restringe la facoltà dei magistrati e delle forze dell'ordine a utilizzare le intercettazioni come strumento di indagine, anzi in un passaggio specifico rende più semplice la richiesta di autorizzazione per le intercettazioni per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, non interviene sulla libertà di stampa e il diritto di cronaca, interviene su un punto specifico, cioè la procedura attraverso la quale vengono selezionate le intercettazioni e le modalità con le quali queste vengono utilizzate come strumento di prova.